ciao a tutti da jgr studios il nostro canale dedicato alle lezioni recensioni e tutorial sull'audio recording non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e sulla campanella per rimanere aggiornati in tempo reale ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati siamo giunti alla nuova versione di studio one 4.1.2 una delle novità più interessanti è stato l'inserimento di una nuova versione del save new version in questo nuovo update infatti cliccando su save new version abbiamo la possibilità di creare una nuova versione della stessa song e mantenere lo stato attuale della song in cui lavoriamo per cui potremmo fare delle versioni salvarle e rimanere nella stessa versione continuando a lavorare quindi creare altre versioni oppure utilizzare l'incremental version e fare in modo che ogni volta che salviamo con save new version abbiamo una nuova song e continuiamo a lavorare sulla nuova song che abbiamo salvato quindi lasciando inalterata la versione precedente spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online continuate a seguirmi su facebook youtube music off non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto ho da poco aperto anche un account patreon per raccogliere i fondi a sostegno della realizzazione dei prossimi video gratuiti trovate il link sempre nella descrizione ciao a presto